Da ieri pomeriggio il consorzio del mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera ha un nuovo CDA, ma sull'elezione piovono tuoni e fulmini da parte degli enti che non hanno partecipato, oltre al fatto che scoppia il caso come bubone politico a Nocera Inferiore. Una rappresentanza della maggioranza di governo ha chiaramente disattese quelle che erano state le indicazioni precise del primo cittadino, Maleo Torquato. Il giorno prima dell'Assemblea, proprio il sindaco di Nocera Inferiore, aveva diffidato il presidente Antonio Guerritore chiedendo un differimento dell'appuntamento, non essendoci all'ordine del giorno punti giudicati di vitale importanza come la diminuzione da 5 a 3 anni della durata in carica degli organismi, il numero dei consiglieri componenti del CDA, l'entità della loro indennità. E Antonio Guerritore aveva ritenuto di adeguarsi alla richiesta comunicando il differimento della data dell'Assemblea, richiesta di rinvio cui poi aveva in seconda stanza unito la sua voce anche la gestione commissariale del comune di Pagani, ma i lavori, nonostante un preciso ordine di servizio con cui il presidente Guerritore disponeva fin anche la chiusura degli uffici, sono stati celebrati. Con la regione che esprimeva tre voti, due in capo all'assessore regionale all'agricoltura, uno in capo a quello titolare della delega alle attività produttive rappresentato nel caso specifico dal consigliere regionale Monica Paolino. Nocera contava su tre voti, due di maggioranza, con il consigliere comunale Giuseppe Grassi e con Giovanni Rea. Entrambi entrate a far parte del nuovo CDA, insieme ai paganesi Enzo Paolillo, indicato anche come presidente in pectore del consorzio Enzo Vairo Paolo Izzo, ai di massa di Scafati, al nocerino Carmine Citarella, con delega ricevuta da Edmondo Cirielli nel 2009, mentre il presidente della provincia in carica Antonio Ioannone aveva dato mandato al suo assessore Massimo Donofrio. Io non faccio invasioni di campo come è stato fatto nel mercato da parte di qualche scafatese che ha creduto di venire a mettere le mani su una struttura completamente strana alla tradizione, agli interessi di quel territorio e di quella fascia politica che lo investe. Certamente devo dire, così come cittadino, che è una cosa molto biasimevole da parte di chi non ha tenuto in debita considerazione quello che era stato, come dire, una richiesta ufficiale e motivata da parte del sindaco. L'ho accettata io e l'ho fatta mio perché l'ha detto un autorevole personaggio politico al sindaco di Noceri Inferiore non vedo perché, e certamente se mi è consentito, l'ho accettata anche se le mie idee non erano completamente in linea con quello che diceva il sindaco Torquato, non vedo perché un suo rappresentante e uno che fa parte dell'amministrazione della compagine non abbia acceduto alle richieste ottenute. Io ho ricevuto il giorno prima della seduta dell'assemblea, della convocazione dell'assemblea in seduta ordinaria, alla quale poi il giorno successivo sarebbe succeduta la seduta straordinaria, una comunicazione del sindaco il quale mi diffidava a non rinviare la seduta stessa in quanto non erano stati messi all'ordine del giorno dell'assemblea stessa gli adeguamenti previsti per legge. Non avendo la possibilità di convocare il CDA perché anche d'urgenza sarebbero dovuti trascorrere due giorni e stavamo a un giorno soltanto, mi sono assunto la responsabilità di trasmettere ai pratiche concessionari e rappresentanti degli enti consortili, la comunicazione che l'assemblea veniva differita e che sarebbe stato poi convocato d'urgenza un CDA per stabilire la data nella quale si sarebbe provveduto a tanto. fatto questo purtroppo la seduta con un blitz, chiamiamolo così, è stata tenuta lo stesso e nonostante la maggior parte degli enti pubblici, leggo Comune di Corbare, Comune di Angri, Comune di Nocere per un terzo e provincia non hanno partecipato alla stessa, quindi sono stati privati del diritto di rappresentare le esigenze e le idee dei propri comuni, quindi il diritto di voto e di presenza, l'assemblea si è tenuta lo stesso, anche se voglio praticamente dare il mio apprezzamento all'intervento del Comune di Pagani, per nome e per conto del dottore Massarotti, il quale praticamente ha evidenziato che essendo tutti questi enti assenti in base alla comunicazione che la presidenza del CDA aveva fatto e anche in considerazione del fatto che quanto prima saranno espletate le operazioni di voto a Pagani, era opportuno rinviare la nomina, la tenuta dell'assemblea con la nomina dei componenti del CDA, questa opinione non è stata accolta, per cui alla fine poi lo stesso rappresentante del Comune della Triade Commissaria del Comune di Pagani ha abbandonato la seduta.